A 57 anni Manoli dimostra, in campo si muove ancora con una classe, un'eleganza, una rapidità che lascia una bocca aperta. Non gioca più da tempo, la sua ultima partita con l'Australia risale al 1996, proprio allo stadio per il Biscito di Padova contro l'Italia. David Campesa è forse con John Alomo il giocatore di regno più famoso della storia. La famiglia era emigrata a Sydney da Montecchio per Calcino a Vicenza. Oggi David ha una sua accademia per giovani e ha portato una selezione australiana di 15 anni in giro per l'Europa, chiudendo con una partita amichevole proprio contro il Petrarca. Sono fatto un'e-mail a chi vuole venire da Italia, il nostro coppio è giocato a Wasp, a New Bridge, a Scuola e a New Bridge, quella in Gales, che è partita molto duro. David ha giocato quattro anni a Padova vincendo tre scudetti e cinque nel Milan. Intanto con la sua Australia otteneva il record mondiale di mete segnate e l'oro nella Coppa del Mondo del 1991. Mio figlio Jason, anche domani sera viene mio parente di Montecchio per Calcino, ma non lo so. E' molto fortunato per noi di venire qui ancora. Nella Hall of Fame del rugby mondiale il suo volto è sui francoboli australiani. Quanto al rugby italiano, David, conosciuto per i suoi giudizi diretti, ha le idee chiare e propone addirittura un allenatore. Io ho visto la Coppa Mondiale e per me bisogno di un allenatore italiano, non bisogno di Irlanda, di Nuova Irlanda. Bisogno di qualcuno che conosce il rugby molto bene qui, come Vittorio Monari, un buon allenatore.